E' allarme per la campagna pesca e nettarine 2014, con prezzi inferiori anche del 40%, ben lontani dal coprire i costi di produzione e con ricadute sull'intero sistema economico-sociale, nazionale ed europeo. Agrinsieme ha fatto sapere che Italia, Francia e Spagna hanno convocato con urgenza le rappresentanze della filiera dei tre paesi produttori. Oggi poi, nel corso della conferenza stampa organizzata da Ortofrutta Italia per lanciare la prima campagna di promozione e comunicazione di sistema a sostegno dei consumi di ortofrutta, il ministro Martina ha annunciato che il nostro paese presenterà un'apposita proposta davanti alla Commissione. Alla riunione del comitato di gestione che si terrà a Bruxelles, l'Italia sarà capofila con Francia e Spagna di una proposta precisa alla Commissione di attivare strumenti extraordinari per far fronte a questo scenario nuovo e comunque particolare che stiamo vivendo. Il punto l'abbiamo posto, siamo capofila di questa richiesta, per fortuna devo dire che anche gli altri Stati hanno immediatamente corrisposto e quindi stiamo lavorando insieme. La Commissione mi pare attenta, adesso bisogna vedere se riusciamo a passare dalla parola ai fatti. Le cause che hanno portato a questa situazione critica sono molteplici. La sovrapposizione delle raccolte in alcune aree produttive europee e l'andamento climatico sfavorevole che ha depresso i consumi sul mercato interno, ma soprattutto sui mercati di destinazione nel nord Europa. A sostegno dei consumi di pesche e nettarine italiane, Ortofrutto Italia ha presentato un'iniziativa con il patrocinio del Mipaf. Questa campagna ha lo scopo e l'obiettivo per la prima volta in assoluto dall'Unità d'Italia di iniziare un percorso di promozione generica, come si chiama tecnicamente, quindi una comunicazione che la filiera insieme fa per stimolare il consumo di un determinato prodotto. In questo caso noi la allocchiamo volutamente in un periodo particolare della stagione, metà luglio, metà settembre, su indicazione tecnica del comitato di prodotto, proprio perché riteniamo, al di là dei picchi produttivi, di poter esprimere naturalmente la migliore qualità per le varietà che vengono a muturazione in quel periodo lì. La campagna consiste nell'affissione di un layout uguale per tutti, in tutti i punti di vendita delle maggiori imprese della grande distribuzione italiana, esprime un sostegno al consumo del prodotto con una connotazione di valori territoriali di qualità molto forti. Ci auguriamo che un cambio anche dello scenario rispetto al climatico effettivamente favorisca questa ripresa dei consumi e il messaggio che noi diamo al consumatore è che si attenda in prospettiva ulteriori iniziative di questo genere riconoscendo la provenienza con una forte carattere di istituzionalità.